Io sono Gabri Costa, ciao a tutti cari amici followers, vi farò vedere il sesto e ultimo livello della modalità labirinto dell'area Villa del Boss, recensirò anche quest'ultimo livello della modalità labirinto e vediamo di fare in fretta, dobbiamo mangiare 104 pack pallini, qui c'è un problema grosso, ci sono 5 fantasmi, no quanti fantasmi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho perso il conto ragazzi, non li so contare, quindi 6 fantasmi, ma sono un po' troppi però, bene abbiamo finito, abbiamo recensito anche quest'ultimo livello della modalità labirinto dell'area Villa del Boss, ci siamo riusciti, grazie per avermi seguito, un bacione e un arrivederci da Gabri Costa, ciao a tutti